Ultimamente si parla molto spesso di virus, contagio, infezione, malattia infettiva, ma andiamo a vedere nel dettaglio che cos'è una malattia infettiva. Una malattia infettiva è una patologia che è causata da agenti microbici che entrando in contatto con un individuo si riproducono e dall'interazione con il suo sistema immunitario causano un'alterazione funzionale dell'organismo, quindi la malattia. Gli agenti microbici che possono causare una malattia infettiva hanno varie nature, possono essere per esempio virus, batteri o funghi. Ci sono malattie infettive contagiose e non contagiose. Quelle contagiose sono causate da agenti patogeni che vengono trasmessi da un individuo all'altro e il ricevente sostanzialmente viene chiamato individuo recettivo, mentre quelle infettive non contagiose richiedono una trasmissione attraverso dei vettori come gli animali o particolari circostanze, ad esempio un taglio nella mano e toccare una superficie con dei batteri silenti in essa. Per contrarre una malattia infettiva bisogna ricordarsi che l'individuo deve essere sottoposto all'agente patogeno e quindi trovarsi tra l'altro in uno stato di immunodepressione, quindi essere suscettibile, quindi non avere le difese immunitarie atte a combattere questo agente patogeno. Ci possono essere varie modalità per evitare di contrarre una malattia e sono fondamentalmente le modalità preventive e per questo piccolo approfondimento passo la parola a Veronica. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità la prevenzione è un insieme di attività volte a promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l'insorgenza di malattie. Ci sono tre tipi di prevenzione, la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria ha il compito di mantenere le condizioni di benessere ed evitare la comparsa delle malattie. Alcuni esempi possono essere la vaccinazione, la corretta igiene, la correzione di abitudini scorrette come per esempio cura del fumo e la correzione di situazioni che possono portare alla malattia come per esempio l'obesità che portano quindi a una predisposizione. La prevenzione secondaria invece è uno step successivo rispetto alla prevenzione primaria, rappresenta praticamente l'attività sui soggetti che sono già malati che però sono in uno stadio iniziale della malattia. Serve quindi per prevenirne le conseguenze quanto possibile. Un esempio è quello dello screening. Infine la prevenzione terziaria fa riferimento a quelle azioni che vengono svolte quando già ci sono gli esiti importanti della malattia che devono quindi essere contenuti nella maniera più efficace possibile. Inoltre provando a contestualizzare questo concetto di prevenzione all'attuale situazione di coronavirus potremmo ipotizzare che la prevenzione primaria si basa sulla prevenzione del contagio, quindi sul venire a contatto con meno persone possibili, sulla corretta igiene delle mani e sulle narme igieniche in generale e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali come per esempio guanti e mascherine che devono essere usati nel modo corretto e ovviamente solo nelle situazioni che lo richiedono. La prevenzione secondaria si può andare a concretizzare con l'esecuzione del tampone, ovviamente anche questo solo se necessario, se su ordine medico e infine la prevenzione terziaria sul trattamento della sintomatologia sviluppata. Grazie Veronica per questa spiegazione esaustiva. Tornando alle definizioni dal punto di vista epidemiologico, le malattie infettive hanno caratteristiche diverse di diffusione. Distinguiamo infatti tra epidemia, endemia, pandemia e sporadicità. Parliamo di epidemia quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente e in breve tempo. La infezione si diffonde in un territorio circoscritto, in un arco temporale predeterminato, però il numero di casi aumenta in maniera elevata al di là delle previsioni fatte precedentemente. Parliamo di endemia invece quando l'agente responsabile della malattia è stabilmente presente e circola nella popolazione e i casi che si manifestano sono più o meno elevati ma uniformi nell'arco temporale. Parliamo di pandemia invece quando un'epidemia tende a diffondersi ovunque, quindi parte da uno stato, si diffonde al continente e successivamente può diffondersi all'intero mondo, all'intero pianeta. Per far sì che ci realizzi un'epidemia devono essere presenti tre condizioni, quindi ci deve essere un organismo altamente virulento, ci deve essere una mancanza di immunizzazione specifica nell'uomo, quindi non c'è un vaccino, non ci sono delle misure che fanno sì che il sistema immunitario umano possa rafforzarsi nei confronti dell'agente patogeno e c'è la possibilità di trasmissione dell'agente patogeno da uomo a uomo. Parliamo di sporadicità invece in relazione al caso sporadico che si manifesta in una popolazione in cui una certa malattia non è stabilmente presente. È importante sottolineare però che lo spostamento, la diffusione meglio delle malattie è anche incentivato dai maggiori spostamenti, dai viaggi, insomma dalla globalizzazione che attualmente determina maggiormente le interazioni tra individui provenienti da diverse parti del mondo. Passando a un punto di vista storico facciamo una piccola panoramica di quelle che sono state le pandemie influenzali del ventesimo secolo, quelle più famose, quelle che sono state più impattanti dal punto di vista clinico. Sono state sostanzialmente tre e sono quella del 1918, quindi l'influenza spagnola, quella del 1957, ovvero l'influenza asiatica e quella del 1968 denominata influenza Hong Kong. Allora c'è da dire che il ceppo di partenza di queste influenze è fondamentalmente sempre lo stesso, cioè è il ceppo del virus dell'influenza A. I tre sottotipi antigenici del virus dell'influenza A nominati appunto nell'influenza spagnola, nell'influenza asiatica e nell'influenza Hong Kong sono l'H1N1 per l'influenza spagnola, l'H2N2 per l'influenza asiatica e l'H3N2 per l'influenza Hong Kong. Parlando di virus A, prima di fare eventuali approfondimenti è importante ricordare che è principalmente proveniente da serbatori animali, quindi uccelli selvatici maggiormente, e passa direttamente all'uomo oppure passa all'uomo mediante ospiti intermedi come i suini. Il suo genoma è segmentato in otto frammenti che sono soggetti a fenomeni di drift o shift, quindi di riassortimento e quindi vanno a creare i tre sottotipi antigenici che abbiamo prima citato. Infatti nel 1918 è comparsa l'influenza spagnola H1N1 che sembra passò direttamente dagli uccelli all'uomo anche se la sua storia è ancora in parte misteriosa. Nel 1957 abbiamo l'influenza asiatica H2N2 che originò per riassortimento tra ceppo aviario e ceppo umano, quindi tra uccelli e ceppo umano, con tre segmenti aviari. Nel 1968 invece abbiamo l'influenza Hong Kong H3N2, anch'essa originata per riassortimento fra ceppo aviario e ceppo umano. Portando un po' di dati per quanto riguarda l'influenza spagnola del 1918, si è stimato che circa un terzo della popolazione mondiale all'epoca fu colpito dall'infezione durante la pandemia del 18-19. Era una malattia eccezionalmente severa, aveva una letalità maggiore del 2,5% e causò circa 50 milioni di decessi. A distanza invece dell'influenza spagnola, nel 1957, dopo anni in cui il virus dell'influenza aveva ripreso il suo percorso abituale, nel 1957 comparve l'influenza asiatica e nonostante non esistesse una sorveglianza epidemiologica di laboratorio come quelle odierne, il virus fu studiato nei laboratori di Melbourne, Londra e Washington dopo riconoscimento che un'importante epidemia era in corso. Fu rapidamente elaborato un test per riconoscerlo e sostanzialmente si arrivò a un risultato potenzialmente migliore rispetto a quello dell'influenza spagnola e in contrasto a quanto osservato nel 1918 le morti si verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani. Infatti all'epoca si sapeva che nell'influenza le infezioni batteriche polmonari secondarie o concomitanti erano frequenti e ad esse erano dovuti in molti casi fattali. A volte però la sovrapposizione batterica non poteva essere dimostrata quindi si parlava di polmonite a batterica ma con l'asiatica del 1957 appunto fu molto diffuso e dividente il fenomeno di polmoniti primariamente virali. Il virus dell'asiatica H2N2 era destinato ad un breve periodo di permanenza tra gli esseri umani e di fatti scomparve dopo 11 anni assopientato però dal sottotipo AH3N2 ovvero l'influenza Hong Kong. L'influenza Hong Kong infatti comparve nel sud-est asiatico nel 1968 dall'omonima città e inizialmente rimase localizzata in Asia. Poi ci furono importanti differenze con quella precedente quindi con l'influenza asiatica. Infatti in Giappone le epidemie furono saltuarie sparse e di limitate dimensioni fino alla fine del 68. Poi il virus fu introdotto nella costa occidentale degli Stati Uniti con elevati tassi di mortalità. Contrariamente all'esperienza dell'Europa dove nel 68 e 69 l'epidemia non si associò ad elevati tassi di mortalità. In Italia quello che fu l'effetto di questa epidemia fortunatamente rispetto alle epidemie precedenti il numero delle vittime stimato fu circa di 20.000 persone. Al di là di questi eventi pandemici mondiali ci furono degli eventi quasi pandemici. Uno nel 46-47 una pseudopandemia di H1N1 diffusosi prima in Giappone e Corea tra le truppe statunitense e poi successivamente nelle basi USA dove fu appunto isolata e fu una quasi pandemia, una pseudopandemia in quanto si diffuse a livello globale ma causò relativamente poche vittime. Nel 77 poi si ebbe l'epidemia dell'influenza russa sempre di CEPO H1N1 denominata russa nonostante partì dal nord-est della Cina. Colpì principalmente quasi unicamente i giovani con meno di 25 anni con manifestazioni cliniche lievi anche tipicamente influenzali quindi non fu un'epidemia potenzialmente letale. La caratterizzazione antigenica e molecolare ha dimostrato che questo virus era molto simile a quelli circolanti negli anni 50 quindi era un'evoluzione o addirittura uno strascico dei virus precedentemente noti che non avevano ancora colpito queste determinate aree oppure queste determinate fasce di popolazione. Queste sono state dunque le pandemie, quasi pandemie, che maggiormente hanno colpito nel corso della storia l'intero pianeta e passando invece al XXI secolo quindi quello in cui ci troviamo noi attualmente più che di pandemie si va a parlare di epidemie perché con l'evoluzione della medicina e degli screening epidemiologici nonché delle tecniche per arginare alla diffusione delle malattie infettive nel XXI secolo si parla appunto di epidemie in quanto le malattie infettive maggiormente sono state contenute all'interno di determinate aree ed è stato così possibile impedirne la diffusione a livello globale. Una delle epidemie più famose del XXI secolo è quella avvenuta nel 2003 ovvero l'epidemia di SARS. La causa della SARS è un virus appartenente alla famiglia dei coronavirus detto SARS-CoV. A questa stessa famiglia come ben sappiamo e come ultimamente ci viene spesso ricordato appartengono anche i virus dei raffreddori che molto bene noi conosciamo. Gli animali che inizialmente furono imputati di aver dato origine al virus umano della SARS furono dei carnivori selvatici e dei gatti domestici però successivamente alcuni ricercatori scoprirono che c'erano notevoli analogie tra il virus della SARS umana e quello dei pipistrelli abitanti del sud-est asiatico. Alla luce di questa scoperta le indagini si fecero più approfondite e qualche anno più tardi nacque l'ipotesi che i pipistrelli fossero stati i portatori sani della malattia, il cosiddetto serbatoio di virus come ci suol dire. La SARS fece la sua prima comparsa nel 2002, nel novembre del 2002 in Cina, nella provincia del Guangdong. Da quel momento molto velocemente si è diffuso in altri 30 paesi per la maggior parte asiatici come Hong Kong, Singapore, Taiwan e Vietnam ma anche seppure in pochissimi casi in Canada, Stati Uniti e anche da noi in Europa. Questa rapida diffusione in diverse parti del globo sebbe causa soprattutto dei viaggi aerei, delle persone contaminate e ammalate. Quindi tra il novembre 2002 e luglio 2003 la SARS causò nelle regioni asiatiche interessate una vera e propria epidemia, causando il contagio di più di 8.000 persone provocandone alla morte di 774. Dopodiché grazie alle appropriate contromisure sanitarie alla messa in quarantena si riuscì fortunatamente a fermare la propagazione. Nei paesi occidentali invece, sempre all'interno dello stesso arco temporale, i casi o i sospetti casi di contagio furono pochissimi e prontamente posti in isolamento. In Canada, a Toronto, si verificarono poco più di 200 casi, in tutta Europa nemmeno una decina. È importante ricordare che la scoperta della SARS si deve a un medico italiano, Carlo Urbani, che prima di morire, per gli effetti proprio di questa infezione, comunicò le sue importanti scoperte all'OMS nel tardo febbraio del 2002 e fu proprio così che partì l'allerta mondiale. A proposito di Italia, anche il nostro paese, come gli altri paesi europei, ha dovuto far fronte all'emergenza e organizzare adeguate risposte. Infatti, nell'aprile del 2003 veniva costituita la Task Force sulla SARS da parte del Ministero della Salute, ovvero un gruppo permanente per la valutazione del rischio e il controllo della SARS dell'emergenza di origine infettiva. Gli obiettivi prioritari della Task Force erano sostanzialmente identificare e isolare immediatamente i casi di SARS, sospetti o probabili, al momento del loro arrivo in Italia, quindi attraverso un filtro aereo-portuale, oppure che si manifestassero in soggetti provenienti dalle aree affette nei dieci giorni successivi al loro arrivo in Italia. Inoltre, un altro obiettivo della Task Force era quello di porre sotto sorveglianza i casi di SARS e fornire indicazioni per la prevenzione e il controllo della SARS in ambito ospedaliero. La risoluzione dell'emergenza all'epoca fu possibile grazie alla collaborazione col Dipartimento Emergenza della Protezione Civile, ovviamente le strutture cliniche di riferimento e le regioni, oltre che l'Istituto.